Voglio salutare l'onorevole Appendino. Grazie, ben trovato. L'onorevole Appendino. Guardi, io penso che gli agricoltori stiano manifestando un malessere che è evidente. E' anche evidente che c'è un tradimento vero da parte di questo governo, perché questo governo ha tagliato 2 miliardi all'anno sugli agricoltori. E la cosa che a me colpisce di più, sentendo anche il collega in questo momento, è che oltre al tradimento che si è manifestato con le tasse che sono state aumentate sul fatto che hanno tolto gli sconti, anzi i crediti di imposta sui carburanti, ma questo lo diamo ormai per assodato, quello che a me colpisce è che c'è anche la menzogna. Cioè, questo governo punta il dito contro un'Europa che ha delle responsabilità, ma questa maggioranza è colei che ha indicato il commissario che fa parte del loro gruppo ECR, che è responsabile di queste politiche, e soprattutto la stessa PAC per cui protestano, l'ha votata anche fidanza. Quindi qua abbiamo tradimento e menzogna sulla pelle degli agricoltori. Un'errore a pendino, prendo spunto Daniela Preziosi oggi sul domani, spesso è con noi. Litia e strategie tra PD e Movimento 5 Stelle, scrive Preziosi all'anno zero. Conte insulta i dem in vista delle europee, Schlein stanca di incassare e dice il campo largo non c'è. Altro che Guantoni. Esatto, esatto. In realtà più che litigi sono discussioni, nel senso che noi abbiamo dei temi che riteniamo importanti per il Paese e questi temi sono ad esempio il fatto che per noi sia sbagliato continuare a inviare armi all'Ucraina. Per noi significa dire, abbiamo fatto cadere il governo Draghi su questo, che non è accettabile la costruzione di un incineritore. Per noi significa fare una battaglia vera per la sanità pubblica, cioè riportarla allo Stato, aumentare le risorse. Ad esempio in Piemonte da me, noi stiamo chiedendo al PD, con cui stiamo discutendo, di avere il coraggio di dire che il partenariato pubblico-privato non è sufficiente, cioè ci vuole di più. Stiamo chiedendo loro di dire no agli inceneritori, stiamo chiedendo loro di avere posizioni coraggiose sui diritti. Cioè cosa significa questo? E chiudo. Noi abbiamo una nostra identità e questa identità noi crediamo possa far bene al Paese. Quindi chiedere al PD di non essere bellicista, chiedere al PD di essere ambientalisti significa semplicemente chiedere di costruire un progetto in cui non si chiede al Movimento 5 Stelle di perdere la propria identità. E noi su questo ci confrontiamo. Però alla fine ci sarà una convergenza, una saldatura su questo percorso qui. Noi ci confrontiamo sui temi. Vorrei sottolineare però un fatto. Cioè noi non è che combattiamo contro qualcuno, noi lavoriamo nell'interesse degli italiani. E quindi anche tornando a quello che c'è la finanza, cioè a me quello che preoccupa di questo governo non è rimpasto sì o rimpasto no. A me preoccupa che ci sta portando alla crescita zero, al debito pubblico che torna a crescere, al carrello della spesa che è tornato a crescere, quindi gli italiani non riescono ad arrivare praticamente a fine mese, che non fa nulla per gli investimenti in Italia. E in Europa Firenze dice che cresce la rilevanza nazionale dell'Italia a livello internazionale. Ma io vedo degli ultimi risultati. Expo una figura barbina a livello nazionale. Sui migranti i numeri sono il record assoluto e rappresentano il fallimento. Gli accordi non hanno portato nessuna parte, sono dei fallimenti. Il patto di stabilità e crescita ci ha portato e ci porterà 12 miliardi di tagli all'anno che si possono radire nuove tasse e nuovi tagli su scuola, sanità e pensioni. Cioè a me è questo che preoccupa. E ad esempio, per chiudere e rispondere alla sua domanda, ove possiamo, come sul salario minimo, è certo che facciamo una battaglia comune. Il problema sa qual è che questo governo non si rende conto di quello che succede fuori da questi studi, da questi palazzi. Cioè ormai siamo arrivati al negazionismo della crisi economica. Le ha rifiutato. Il processo è stato rinviato al 24 maggio e lei, per una serie di elementi giudiziari che non sto qui a dire, rischia 24 anni di carcere. Così abbiamo ricordato quella che è la vicenda. Appendino. Ha fatto bene a ricordarlo, perché guardi, Fidanzi ha perso un'occasione. Noi potremmo stare qui a discutere del fatto che è inaccettabile, incomprensibile che un governo, parole del ministro Tajani, abbia scoperto dopo quattro udienze, dopo che i giornali ne avevano già parlato, dopo che c'è un ambasciatore che dovrebbe sapere da foto di giornali che è accaduto, quanto sta accadendo, che è una ragazza che è in condizioni non dignitose. Lasciamo da parte la questione giudiziaria. È in condizioni non dignitose. Oggi Fidanzi dovrà dire solo una cosa. Noi dobbiamo fare di tutto per far sì che questa ragazza sia tutelata, le sia garantito il diritto a un processo, e poi lì si accerterà la verità, ma soprattutto alla dignità della persona. Ed è per questo che Fidanzi ha perso una seconda occasione, e cioè che oggi i fratelli d'Italia dovrebbero semplicemente prendere distanze con la sua presidente Giorgia Meloni da un atteggiamento che è indecente da parte della Lega e del suo vicepremier e del suo capo politico Salvini. Perché in questo contesto, lasciamo da parte la questione giudiziaria, sappiamo che deve essere garantito il diritto alla dignità di questa ragazza, che ci sia il vicepremier, nonché capo della Lega, che attacca questa ragazza sui fatti, francamente è un qualcosa di inacettabile. Ci fai vedere? Quindi parliamo, se vogliamo, di tutti e duemila i detenuti italiani che sono in condizione... È quello che scriveva ieri, forse Gramellini, su quella della sera, quando diceva che fosse stata partitica, probabilmente nessuno si sarebbe accordo di Larea Salis. C'è un paese che si è scandalizzato, visto dell'immagine, diamo il segnale, lo dico anche a fidanza, e so che lo dirà, che quello che ci interessa è far sì che questa ragazza... Ma ci vogliamo scandalizzare prima delle cose che accadono in Italia o ci vogliamo scandalizzare delle cose che accadono in Ungheria? io lo scandalizzo per entrambi, ma non è questo il punto. Il punto oggi è che il governo e tutto il paese, e tutte le forze politiche devono dare un segnale chiaro, cioè che questa ragazza ha diritto a fare un processo, ha diritto a violare le leggi dell'Ungheria. Facciamo una battaglia sull'Ungheria per cambiare le leggi, ma se in Ungheria che cosa può fare? Per me è una ragazza, una ragazza, un ragazzo. Ma il governo, se in Ungheria i detenuti vanno in manette, il governo italiano cosa può fare? Giacometti, scusi, possiamo attaccare l'Ungheria. Giacometti, catene, se in Ungheria i detenuti vanno in catene, il governo che cosa può fare? Fare in giornalista, che cosa può fare? Per me essere patriota che cosa può fare il governo? Giacometti, per me essere patriota significa essere un governo che sa un connazionale. che all'estero e subisce il non riconoscimento di diritti internazionali. Io, dal governo italiano, la devo tutelare. Faremo da denuncia. Per il resto, non c'è una critica al governo perché si capisce dall'azione di un anno e quattro mesi di governo del ministro Lobrigida, del presidente Meloni e di tutti quanti noi che c'è un governo attento all'esigenza dell'agricoltura che ha cercato di aumentare le dotazioni su molte voci, che ha raddoppiato con la revisione del PNRR, i fondi sull'agricoltura, e che in Europa combatte a difesa dell'agricoltura. Mentre invece gli altri governi, a partire da quello francese, da quello tedesco, vengono accusati di aggiungere delle norme nazionali ancora più penalizzanti di quelle che arrivano dall'Europa. Per quanto riguarda la PAC, cioè la politica agricola comune che l'Appendino dice noi abbiamo votato, eccetera, io ricordo, ero in Parlamento europeo, votare, che all'epoca la polemica era da parte degli ambientalisti, degli iper-ultra ambientalisti, che la PAC che si votò all'epoca non era abbastanza verde, cioè volevano delle misure ancora più ecologiste, diciamo, e quindi ancora più penalizzanti per l'agricoltura. Si trovò quel compromesso che non fu il migliore dei compromessi ma sicuramente meglio di come era stata impostata inizialmente la proposta della Commissione europea e si votò da parte praticamente di tutti i partiti italiani. Con questa logica lo dico, chiudo, perché in realtà... Ha votato la PAC, quella contro cui protestano l'ha votata. No, no, guarda, tu devi ascoltare gli agricoltori, non protestano contro la PAC. E poi arriva anche sui agricoltori. È chiaro che nel delirio che c'è nel mondo tu aggiungi anche la questione del 4% di terreno a riposo ovviamente è una follia, ma se tu li ascoltassi un attimo, capiresti che i loro problemi derivano da una iperburocrazia che c'è nelle norme europee e da queste follie ambientaliste che sono state approvate in questi me anni, quattro anni e mezzo, da tutti, dai 5 Stelle che sono i più accaniti sostenitori di queste norme nel loro tentativo disperato di trovare casa politica nei verdi europei. abbiamo capito, dobbiamo far parlare anche gli altri. E ce l'hanno giustamente sui Appendino arrivo, Appendino arrivo. No, 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 ma è chiaro quello che sta dicendo. No, 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 ma è chiaro Pensa di ridurre la produzione agricola in un mondo che ha sempre più fame, ma il problema qual è? Che si sostituisce la produzione agricola europea con importazioni da paesi terzi meno sostenibili di noi, farine di grillo e cibo sintetico. E' chiaro che il minuto riserva. Questa è la protesta in giro per l'Europa. Allora, Pendino. No, guardi, io capisco la vergogna di Fidanza e mi spiace perché non volevo essere costretta a farla, però io ho qua il voto del 23-11-2003 in cui Fidanza ha votato sì alla PAC. E ha votato sì alla PAC e oggi se ne vergogna. Mi lasci parlare, sa perché? Ora torno, Fidanza, ora torno. Parliamo uno per volta, se no non ci capiamo. Io non ho interrotto. Quindi se ascolti, apri le orecchie, forse cominci a capire quello che... Aspetta, adesso arrivo, Fidanza. Adesso arrivo, norevole. Voglio sentire Appendino. Adesso arrivo. Appendino. Sa perché si vergognano? Perché da un lato hanno tradito, cioè non hanno neanche ascoltato quel canetto degli agricoltori, si lamentano dell'IRPEF, arriva qui e dice che non c'è un effetto sui carburanti. Ma avete tolto 150-200 milioni a trimestre per i crediti in imposta sui carburanti. Quindi avete aumentato il costo per i carburanti. Avete tagliato un miliardo all'anno s'agricoltura 4.0. Ma questo è un dato di fatto. Ma la cosa incredibile per me, non riesco a parlare, ho chiuso. Aspetta, fidanza, 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 un attimo, un attimo. Se no ci capiamo, è anche inutile, insomma, il dibattito e il confronto ci abbiamo. Siccome questo tradimento è così palese, devono usare la menzogna, cioè perché si vergognano. Perché guardi, al netto del voto sulla PAC, questa PAC sa da chi è stata proposta? Da un commissario che è polacco, che fa parte del gruppo ECR, di cui Meloni è presidente, di cui fa parte Fratelli d'Italia. Quindi non c'è solo il tema del tradimento, che hanno tassato e tagliato su un settore che sta male, che andrebbe aiutato. C'è anche la menzogna, perché non sanno come spiegarlo i propri elettori. Io sono d'accordo con lei su un concetto. Cioè io credo che siamo stati d'accordo. A che serve? Serve a salvare i bambini? Posso ragionare con lei? Allora, io credo che gli effetti disastrosi del cambiamento climatico sono gli agricoltori i primi a subirli, la siccità, la grandinata. Quindi il ragionamento che noi dobbiamo fare, faccio un passino avanti, è capire come l'agricoltore possa essere il protagonista del cambiamento, non il caprio espiatorio, perché se no non possiamo scaricarla su di loro. Non la vittima. Perché quindi io torno sul fatto che, al netto di quello che ha fatto l'Europa, l'abbiamo parlato prima, per me un governo serio in un momento così, con una difficoltà di questo tipo, che può sfociare anche intenzione sociale, dovrebbe ragionare di reintrodurre la detassazione IRPEF, che hanno tolto. Sì, sì, questo l'abbiamo capito. L'abbiamo capito, perché già l'abbiamo toccato questo tema. Sono segnali importanti, sono soldi che sono stati tolti a loro. Allora, se quella categoria è in difficoltà e l'Europa magari ha sbagliato, non è che il governo li deve tartassare, li deve aiutare. E quindi io dico, la prima cosa, rimettiamo la detassazione, c'è da sette anni, c'è non è una cosa del Movimento 5 Stelle, noi l'abbiamo confermata, c'è da sette anni, l'acquisto, cioè i soldi per acquistare i crediti imposti sui carburanti, ma sono 150-200 milioni a trimestre, sono importanti. Agricoltura 4.0, fidanza, un miliardo all'anno che ha portato a più 169% e permette agli agricoltori di trasformare e calmarcare l'innovazione. Cioè, queste sono proposte serie, io dico che secondo me è un governo serio, queste cose dovrebbero portarle avanti. Tu non sai di cosa parli? Tu non sai di cosa parli? Tu stai leggendo una velina di partito che ti hanno scritto male e che stai ripetendo peggio. Tu non sai di cosa stai parlando? La questione dei carburanti a cui tu stai facendo riferimento riguarda il gasolio agricolo che ha gli incentivi prorogati e se ne riparerà forse nel 2026. Secondo punto, Agricoltura 4.0, questo governo, grazie alla revisione del PNRR, che per voi era uno scandalo, non si poteva toccare il PNRR, per voi e i vostri compagni del PD, ha aumentato, raddoppiato i fondi per l'agricoltura nel PNRR. Esattamente, per fare gli investimenti in innovazione e per sostenere il ricambio delle macchine agricole per chi vuole cambiarle, facendo un investimento molto più importante rispetto a quelle poche centinaia di euro per i più piccoli, di IRPEF, che è stata reintrodotta, che speriamo di poter peraltro togliere, almeno per quanto riguarda i più piccoli. Ti devo però un'ultima precisazione sulla questione del commissario europeo. Lo sanno anche i muri che tutte le politiche green che l'Europa ha imposto al settore dell'agricoltura, al settore dei trasporti, al settore, nell'ultimo caso, quello degli imballaggi, a diversi settori della nostra industria, della nostra impresa, hanno un nome e un cognome, che sono Franz Timmermans, che è stato il candidato dei socialisti alla guida della Commissione europea, ed è stato il commissario all'ambiente fino a quattro mesi fa quando è scappato in Olanda e è tornato a casa e ha perso le elezioni anche lì, per fortuna degli olandesi e degli europei, e che ha dominato il quadro delle politiche europee su tutte le materie agricoltura compresa. Infatti, basta che tu ti vada a riguardare le politiche di quando venne approvata la PAC, e ha trovato l'increzione di Timmermans che diceva che quella PAC non era abbastanza verde, perché lui la voleva ancora più penalizzante nei confronti di agricoltori. Ci fai sentire, Francesca? Arrivo subito a Pendino, arrivo subito a Pendino, velocemente, velocemente, devo sentire che gli altri. Aspetta, fidanza, quindi c'è poco da raccontare stupidaggini, i voti stanno lì a dimostrarlo. Io capisco il nervosismo di fidanza, perché in estrema difficoltà ricordo agli insulti, però lei non mi ha risposto. L'IRPEF l'avete tolta, di tassazione sì o no? Gli dico io sì. Io ho risposto. Gli carburanti, l'acquisto, i crenti imposti, li avete tolti o no? Li avete tolti. Un miliardo di agricoltura 4.0 l'avete tolta. Allora, non ne usciamo perché stiamo ripetendo con il c'è. Io dico, scusa, perché devo andare avanti. E arriviamo solo all'insulto. A me spiace poi per gli agricoltori che credo che meritino risposto. Allora, per questo spazio abbiamo concluso. Io davvero ringrazio tutti voi per essere stati con noi. Peraltro, Onorevole Appendino è vicepresidente della Federazione Italiana Tennis. Vero? Questo grande onore. E lei c'era ieri? Ieri ero lì. Sì, in Mattarella. È stato molto, molto emozionante. Beh, è un momento per il tennis italiano straordinario, nel senso che al di là dei grandissimi risultati sportivi c'è un paese che si sta affacciando al tennis, tanti bimbi e bimbe che si stanno tesserando, che stanno giocando e lo sport è una scuola di vita. Allora, io ringrazio... Poi sì, nero è straordinario. ma tutta la squadra è della Coppa del S. Sa perché? Intanto saluto Onorevole Fidanza, saluto lei, grazie, Ermeta Rialacci, saluto voi, grazie per essere stati con noi stamattina, ci ritroiamo presto perché ce ne andiamo in break ma ripartiamo proprio da Sinner, ieri, il presidente Mattarella, la celebrazione di un giovane campione di un campione nuovo. Break Reggio e torniamo.